Ritorniamo alle nostre avventure magiche, magiche Noi eravamo rimasti qua che eravamo anche morti qua Ah siamo con tastiera ragazzi Quindi enjoy some bestemmie Allora eravamo rimasti in questa zona terribile che dobbiamo andare a... Ma che cazzo! Ma non voglio morire così! Ma non volevo morire così come... Non voglio morire! Non ho fatto nulla di male! Ma vaffan... Non uscire da quella parte perché da quella parte si muore Ok andando sopra oddio andando sopra che cavolo si faceva però più che altro Andando sopra c'è il gigante che li possiamo chiedere di smetterla di attaccare se non sbaglio Who are you? Who are you? Fare la pace io aiuto quando vuoi Giovane ramo bianco Io aiuto quando vuoi Ok si ok ora... Lui ha smesso di lanciare i sassolini là no? Solo che devo ancora andarci là in realtà Là c'è quel boss quello... Rispondiamo come lui Dobbiamo andare là se non sbaglio no? C'è il boss quello puzzolento Ma mi seguite fino a qua? Ma siete... Seri? Oh! Oh e calmati cazzo no 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 ti voglio bene Ti voglio bene amico Ti voglio tanto bene Non so come risalire Sono... Molto spaventato da questo Non mi lanciare i sassi per favore Per favore non mi lanciare i sassi Mi posso buttare da qua? No non mi posso buttare No 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 non mi lanciare il sasso Ma dovete fottervi Mi stanno gangbangando Che cosa devo fare? Ciucciamelò Ecco che cosa dovete fare Stupidi boss Devo andare là sotto no? Quella fredda! Oh grazie mille per il follow Dopo guardo Un attimo solo Ma vaffanculo per sta braccia del cazzo Grazie mille a ma... A ma... A ma... A ma... Grazie mille Cosa c'è qua? Una porta magica! Con tanti corpi... Morti! E io che ci casco? Ma che cazzo faccio? Come... Come faccio? Cristo Con mouse e tastiera E' un gioco di merda Veramente E' un gioco del cazzo Salve! È stato bello Te che vuoi? Soldatino merodone No 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 Te c'hai la faccia Ti devi... ecco Te la devi dare in quel posto Salve! Buongiorno E' una via felice E' una via felice vero? Quella roba là sopra non mi piace Mi sta lanciando le puzze Scappa 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 Corri c'è il Nemesis Ecco come funziona questa fase Weee C'ho qualcosa dietro il culo? Ok Eccoci qua! Oh cavolo è qua Buongiorno! Salve! Le voglio tanto bene! Non lancia più niente vero ora? Che non mi ricordo sinceramente Vero che non mi ammazza più ora? Non mi ammazzare Ti voglio tanto bene Ma vaffanculo a me A prendere le braci No mi sta ammazzando Aiuto! Uuuuh Uuuuh Ok qua c'è il boss no? Qua si può aprire la porta no? Ok Quindi ci siamo presi la Ci siamo presi la scorciatoio no? Ok Essenzialmente ora siamo a posto Per il potere di Grayskull Vieni qua mostro schifoso! Devo tipo uccidere tutti prima Non mi ricordo Devo prima tipo uccidere tutti Boh Beh Salve! No com'è che... Ah si ammazzava sui... Sui pezzi di merda... Questi qua no? Devo tipo far esplodere la roba Cioè mi ricordo esattamente Devo tipo fargli esplodere... Le uova Lovetto kinder a me! Eh... Sì ma io li volevo ammazzare tutti perché non mi arrivavano da dietro il culo a farmi il culo No! No devo stare un attimo attento a dove sta facendo esplodere la roba! Ecco! Ho parlato cristo santo! Ok! Un uova è andato! Madonna sta visuale se fa merda al cazzo! No! Ora devo stare attento a esplodere tutto tipo... No è vero! Si voleva esplodere subito! Ok! Dove c'ha le uova? Qua c'ha le uova! Ok! Dove c'ha le uova? Qua! Dove c'ha le uova? Non gli arrivano più le uova! Dietro il culo? Ha le uova dietro il culo? Si! Ah! Porca mannaggia santa! No! Ora non mi ci posso avvicinare lì no? Ok con calma! Con calma! Ora posso andare! Cazzarola! Oh! Fa esplodere tutto! Devo allontanarmi un attimo! Mangiala! 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 Porca! Che culo! Che culo! Madonna santa! Leva sta mano di merda! Uh! Come hai fatto a non prendermi? Ti prego! Puoi stare un attimo fermo? Ti vorrei menare qua nelle uova! Oh! No! Non mi mangiare! No! L'abbiamo quasi ucciso! Dai! Quasi fatta! Rega! Come si incazzerà? Ok! Lo mettiamo qua nel culo! Ok! Lo mettiamo qua nel culo! Ok! Fuori strike! Fuori strike! Siamo troppo forti noi! Guti! U sa viva riva riva! E'u ad risk cares! Keum'u ad risk! Grazie a tutti.